Ci troviamo in Previngia di Siracusa, il comune di Avola lungo il fiume Cassibile, la difronta e la grotta dei Briganti. In fondo valle, il laghietto di Cava Grande. Grazie per la visione! Siamo nelle vicinanze del Cassibile e come dice Lucio, sembriamo nella foresta amazzonica, sentiero molto particolare dove si alternano fuscelletti a questi bioppoli tracciati dall'uomo. Ed ecco finalmente il Cassibile con i suoi laghietti. con i suoi laghietti. Finalmente fai il laghietto. Grazie per la visione! 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 Non abbiamo potuto concludere il nostro giro. Ma quanto pensi che sia finita? E' proprio allora che comincia la salita. Grazie a tutti.